Debutto con tanti disagi, in parte anche preventivati, per il provvedimento di chiusura al traffico di Viale Maria Luigia ogni mattina dal lunedì al sabato dalle 7.40 alle 8.10. La misura che entrava in funzione questa mattina, voluta dall'amministrazione Pizzarotti sia per questioni di sicurezza per gli alunni sia per evitare l'eccessivo inquinamento da smog proprio davanti alle scuole, è destinata a far discutere. Il traffico è andato in tutta l'area circostante ed in particolare lungo Ponte Italia ma anche lungo Via Bixio. Una situazione però ridimensionata dall'assessore alla viabilità Gabriele Folli, presente sul posto e che ha definito fisiologiche le difficoltà annunciando che provvedimenti analoghi potrebbero presto essere estesi sempre in via sperimentale anche ad altre zone della città. L'accesso alla strada è stato sbarrato con apposite tansenne e presidiato dagli agenti della Polizia Municipale. La chiusura attuata sarà prevista fino alla fine dell'anno scolastico, dalle 7.30 alle 8.10 per tutti i giorni feriali compreso il sabato. Chi può usi la tangenziale, chi può e chi riesce usi il mezzo pubblico o la bicicletta, viste anche le giornate prettamente estive. Questa la raccomandazione che era arrivata e che continua a arrivare dal Comune. Quanto deciso dall'amministrazione Pizzarotti avviene da tempo anche in numerose altre città italiane in prossimità di istituti scolastici parecchio frequentati.